Bene, ragazzi, riprendiamo la lezione e da dove eravamo arrivati, insomma. Ringrazio sempre il professor Cortese per la sua gentilezza e la sua disponibilità. Allora, riprendiamo da dove eravamo arrivati. Se non avete finito l'esercizio, quello che vi avevo lasciato da questo libro qua, il buon uso dell'italiano B, come Bologna, cioè quello di pagina 199, giusto? Sì, numero tre. Non vi preoccupate, non fa niente. Lo finite a casa e poi lo controlliamo quando ritornerò in aula. Ma il lavoro che abbiamo impostato, ecco, su come si costruisce una mappa concettuale, adesso ci tornerà probabilmente utile. No, probabilmente, ci ritornerà utile propriamente. Allora, ragazzi, riprendete in mano il libro, quello che si intitola Il più bello dei mari, volume C, quello di Epica, e a questo punto potete andare a pagina 4. Bene, abbiamo letto, abbiamo letto in queste settimane in cui abbiamo affrontato l'epica, o meglio, il mito, abbiamo letto alcune cose, cioè ci siamo interessati al poema di Gilgamesh, all'epopea di Gilgamesh, o Gilgamesh, questa epopea di ambito babilonese legato alla civiltà sumera, che riguarda questo re di Uruk, città prospicente ad uno dei due fiumi, Tigri ed Eufrate. Bellissimo poema nel quale ritroviamo, è importante questo che ce lo ricordiamo, ritroviamo il tema del diluvio universale. C'è questo personaggio, Gilgamesh, che è il re di questa città-stato di Uruk, nella parte più meridionale della Mesopotamia, cioè dell'attuale Iraq, il quale è un re che ha grandi velleità, grandi ambizioni, e però è anche un re estremamente capriccioso, volendo, con un indole che per certi versi è anche infantile, non mature, uno abituato ad ottenere tutto. Mi viene da pensare, da questo punto di vista, anche ad un altro racconto mitico, che è quello del Bramino, del Buddha, il quale era da giovane un ricco principe che il padre faceva vivere all'interno di un grande palazzo regale, e questo ragazzino, questo giovine, conosceva soltanto il lusso, la felicità, una felicità, una felicità, si intende totalmente terrena, totalmente materiale, e detto ciò, poi a un certo punto il Buddha, questo ragazzino, esce fuori di nascosto da questo suo palazzo e scopre tutto intorno al palazzo regale la vita del popolo, che è una vita invece miserabile, conosce allora la povertà, conosce il dolore, conosce la sofferenza, e questo porta il Buddha, appunto a divenire Tara, a divenire il Buddha, a un'elaborazione filosofica e spirituale che lo porterà a una grande purificazione. La storia del Buddha è raccontata in un bellissimo romanzo di Herman S, scritto H Herman H S, Herman S, che si intitola Siddhartha, scritto Savona, Imola, Domodossola, Domodossola, Ancona, Roma, Torino, H di Hotel, Ancona, Siddhartha, Siddhartha, un romanzo bellissimo, ecco, per certi versi, e che riprende una storia che è plurimillenaria, quella del Buddha, per l'appunto, della nascita del Buddha, e la storia di Gilgamesh ha qualche cosa, volendo, in comune con ciò, con la storia del Buddha. Gilgamesh è il re che conosce soltanto la sua propria felicità, il suo proprio ego, e che però, a differenza del Buddha, utilizza il popolo per i propri fini, costringe il proprio popolo a costruire grandi infrastrutture, facendolo faticare molto, e soprattutto lo costringe a partecipare alle sue guerre, e quindi provoca sofferenza e morte nel suo stesso popolo. A un certo punto, gli dèi che sono infastiditi dall'atteggiamento irrispettoso e empio di, empio è il contrario di Pio, cioè che segue la volontà divina, quindi che non segue la volontà divina, comportamento empio di Gilgamesh, gli dèi realizzano, plasmano dalla terra, e qui c'è un altro elemento in comune, per esempio, con la Bibbia ebraica, dove Adam, nel secondo capitolo della Genesi, viene creato plasmandolo dalla terra, ok? Nel poema di Gilgamesh viene invece creato Enkidu, che sarà l'avversario di Gilgamesh, Gilgamesh, anche questo è un personaggio semidivino che è incolto, è barbaro, non conosce la civiltà, e che piano piano impara cosa vuol dire essere un uomo, essere un uomo civile. Questo si scontrerà con Gilgamesh e ne diventerà il migliore amico, se non che a un certo punto però Gilgamesh, scusatemi, Enkidu, muore per volontà della dea Ishtar, muore e Gilgamesh, che era diventato amico intimissimo di Enkidu, conosce così la morte, ed entra in una dinamica psicologica estremamente drammatica, estremamente tragica, che lo porterà a volere recuperare, a volere conoscere, a volere carpire agli dèi, cioè sottraire agli dèi il segreto della immortalità. Bene, questo discorso del carpire agli dèi il segreto dell'immortalità potrebbe avere un parallelo, potremmo riconoscere almeno un parallelo, nella vicenda biblica ebraica di Adamo ed Eva, che sono questi due signori che sono creati da Dio, posti e collocati nel giardino di Eden, nel quale il giardino possono prendere tutti i frutti che vogliono tranne quelli dell'albero del bene, della conoscenza del bene e del male, potremmo dire della scienza. Bene, che poi sarebbe ciò che attiene direttamente a Dio la conoscenza del bene e del male, un po' come nel caso invece del poema di Gilgamesh, dell'epopea di Gilgamesh, l'immortalità tiene sempre alla sfera del divino. Ecco, quindi come Adamo ed Eva sfidano in qualche modo l'onnipotenza di Dio, attingendo all'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male, così Gilgamesh compie un vero e proprio attentato nei confronti della divinità, volendo trovare il segreto dell'immortalità. Ma questo segreto dell'immortalità Gilgamesh non lo cerca con un fine di autosalvezza, di autosoddisfazione, bensì con l'intento di donarlo ai cittadini della sua città, ai suoi sudditi, gli abitanti, cioè di Uruk, della città di Uruk. Bene, questo tentativo di capire ai dèi il segreto dell'immortalità e donarle ai propri sudditi ha qualche anche attinenza, ci richiama in qualche modo un altro mito, un mito greco, stavolta quello di Prometeo, il quale ruba agli dèi il fuoco, che è qualche cosa di divino e che gli dèi tengono per sé, anche perché l'essere umano, venendo in possesso del fuoco, potrebbe fare tante cose che prima non potrebbe fare, cioè l'utilizzo del fuoco potrebbe consentire agli esseri umani di poter modificare la materia e gli darebbe un potere enorme rispetto a quello di prima della conoscenza del fuoco e della capacità dell'accendere e mantenere il fuoco. Quindi in questo senso è un gesto quello che fa Gilgamesh di cercare l'immortalità e di donarla ai suoi sudditi, quindi a una porzione dell'umanità simile a quello di Prometeo che vuole regalare all'umanità un qualcosa di divino che è il fuoco. Gilgamesh, per poter trovare il segreto dell'immortalità, ciò che conferisce l'immortalità agli dèi, che cosa fa? Si reca presso il regno degli inferi, esattamente per esempio come fanno altri personaggi nella mitologia greca, possiamo fare per esempio riferimento ad Achille ma anche ad Ulisse e bene, discende nell'Ade dove trova un signore che si chiama Utnapishtin e questo signore insieme alla moglie hanno ottenuto l'immortalità ma Utnapishtin non svela a Gilgamesh il segreto dell'immortalità bensì però, tuttavia però, gli indica dove può trovare un fiore, un fiore stupendo, in grado di conferire la giovinezza, non l'immortalità ma la giovinezza, quindi un surrogato potremmo dire della immortalità. Bene, Gilgamesh riesce a procurarsi questo fiore, se non che, poverino, in un momento di stanchezza, mentre si sta riposando arriva un serpente e questo serpente prende il fiore, immediatamente inghiottendo questo fiore e scappa via, perde la pelle e rimane con la pelle nuova. Voi dovreste sapere che i serpenti fanno stagionalmente la muta, cioè mutano pelle e quindi questo è segno di un ringiovanimento della pelle. Quindi, di fatto, Gilgamesh fallisce nel suo tentativo di portare l'immortalità ai suoi, in questo caso anche semplicemente, il ringiovanimento, la possibilità del ringiovanimento ai suoi sudditi, rimane piangente e però diventa una persona molto più buona, diventa un re saggissimo di cui i suoi sudditi possono andare fieri. Ecco, questo è molto interessante. Sotto tanti profili. Intanto, la presenza del serpente è una presenza indicativa. Troviamo il serpente anche nella Bibbia, nella Genesi, nel racconto di Adamo ed Eva, è il serpente che induce Adamo ed Eva a prendere i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, della conoscenza della vita, condannandoli in questo modo, in realtà, alla morte. La condizione di Adamo ed Eva è quella dell'immortalità, accedendo a quest'albero, diventano mortali. È simile alla dinamica di Gilgamesh da questo punto di vista. In realtà, questo serpente che induce a questa cosa, così come il serpente di Gilgamesh, togliendo anche persino il fiore che dà soltanto il ringiovanimento, di fatto lascia libero corso all'invecchiamento delle persone e quindi all'appropinquarsi, cioè all'avvicinarsi della morte per tutti. Ma in realtà, che cosa fanno in questo senso i serpenti? In qualche modo. In qualche modo ristabiliscono l'ordine naturale delle cose, va bene? Peraltro, nel Vecchio Testamento ebraico, in particolare nel racconto del secondo libro della Bibbia che si chiama Esodo, c'è anche lì una scena dei serpenti. praticamente il deserto del Sinai e il deserto che viene attraversato dal popolo di Israele che viene liberato da un personaggio che si chiama Mosè dalla schiavitù d'Egitto e viene portato in Palestina. Ecco, questo popolo che attraversa questo deserto è martoriato dai serpenti. e allora Mosè chiede aiuto a Dio e Dio dice costruisciti un serpente di bronzo, mettilo al di sopra di un bastone e quando le persone saranno morsicate da morse da un serpente guardino quel serpente di bronzo e io attraverso quel serpente di bronzo le guarirò. Quindi in questo caso il serpente ripristina in quest'ultimo caso che vi ho raccontato ripristina la condizione naturale della vita che è quella della normale esistenza. Anzi, il serpente in questo caso addirittura ha un valore medico, un valore salvifico. non è casuale che nella mitologia greca il Dio Ares in greco, in latino Mercurio che è Dio tra le altre cose anche della medicina abbia il Caduceo cioè un bastone chiamato Caduceo decorato con un serpente intrecciato simbolo della medicina che poi è il simbolo che si trova spesso nelle farmacie perché è proprio un simbolo appunto delle farmacie dove si vendono i medicinali che ti salvano la vita. That's all right? Dunque, che cosa succede? Succede che Gilgamesh diventa un buon re. il migliore dei re. Abbiamo poi letto la storia della creazione di Adamo ed Eva del mondo che viene dato in mano ad Adamo ed Eva in particolare in primis ad Adamo mediante un processo che è quello dell'assegnazione del nome. Dio fa andare davanti ad Adamo tutti gli esseri umani e qualsiasi nome tutti gli animali e qualsiasi nome Adamo avesse dato agli animali quello sarebbe diventato il nome degli animali stessi. Ora, per gli antichi assegnare il nome a un a qualsiasi cosa significava possedere quella cosa. Abbiamo anche visto il racconto di Caino e Abele ma niente vi dice il racconto di Caino e Abele. Il racconto di Caino e Abele è il racconto di due fratelli peraltro uno rappresenta gli uomini che si occupano dell'agricoltura un altro Caino un altro rappresenta gli uomini che si occupano dell'allevamento Abele. Ecco a un certo punto Caino uccide Abele lo uccide per motivi di gelosia di scusatemi non è lo stesso identico principio di Romolo e Remo i due fratelli che volevano fondare una città proprio al momento della fondazione stessa della città di Roma che per i romani era la Caput Mundi la capitale del mondo la città fulcro di tutto ecco di fulcro della civiltà umana stessa bene proprio in quel momento la fondazione della città eterna cioè della città del destino Roma come veniva intesa dagli stessi romani viene macchiata dal delitto fratricida che attenzione non è solo il delitto di un fratello verso un altro fratello ma fratello in senso più ampio nel caso di Caino e Abele fratelli di umanità nel caso di Romolo e Remo fratelli di potremmo dire tra virgolette di romanità va bene ecco è lo stesso principio e anche lì Romolo uccide uccide Remo come vedremo quando studieremo la nascita di Roma il mito rivedremo un pochino il mito il mito di Romolo e Remo bene ecco Romolo ammazza Remo per gelosia per invidia per antagonismo peraltro ve lo dico proprio cursoriamente questo Romolo e Remo vengono posti proprio alla loro nascita in una cesta e con questa cesta posti nel fiume Tevere e poi finiscono insomma a essere allattati da una lupa ma nella Bibbia ebraica c'è un mito più antico e simile identico anzi il Mosè che è il fondatore in qualche modo della della nuova patria palestinese di Israele cioè della libertà di Israele è colui che porta libertà a Israele bene al momento della nascita per motivi particolari viene posto in una cesta e posto nelle acque del Nilo ora vi ho fatto tutto questo lungo discorso e tutta questa lunga prosopopea perché 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 stiamo parlando di miti e come possiamo vedere zone geografiche diverse Roma Egitto Oriente vicino Oriente ma anche Medio Oriente presentano miti simili presentano miti simili ok anzi ci sono miti come quello della creazione dell'esso romano che sono simili anche dalla terra per esempio in Sud America con popolazioni che non hanno niente a che vedere con le civiltà europee medio orientali e così via allora come avviene avviene da un certo punto di vista qualche cosa di simile a quello che avveniva con la fiaba quando abbiamo parlato in termini antropologici della fiaba vi ricordate abbiamo parlato della fiaba di Cenerentola che con versioni differenti ma lasciando il nucleo centrale della storia lo schema sempre uguale abbiamo scoperto che ce ne sono in giro per il mondo 400 circa tra popolazioni diversissime che magari non hanno avuto contatti tra di loro va bene e qualche cosa di simile avviene anche con il mito quindi questo significa molto probabilmente secondo alcuni studiosi è così che il cosiddetto mito il cosiddetto mito ha la sua radice può o almeno può avere la sua radice delle pulsioni interiori intime dell'essere umano che trovano espressione nella creazione di racconti simili quindi il mito risponde a delle esigenze profonde dell'essere umano allora detto ciò vediamo quindi i miti che cosa hanno in sé vediamo che i miti hanno parallelismi nonostante le diverse civiltà che possono averle prodotte in certi casi appunto questo dipende da qualcosa di come dire di profondo esigenze e bisogni profondi dell'essere umano che trovano da dove veniamo dove andiamo perché esistiamo da dove nasce l'uomo cosa diventa l'essere umano quando muore su questa terra e se c'è una componente che rimane immortale un signore che si chiamava Jung che era un grande studioso della mente dell'animo umano parlava di inconscio collettivo ossia una zona della nostra mente del nostro spirito che è comune fra tutti gli esseri umani e che porta elaborare delle storie che vogliono dare delle risposte esattamente come avveniva con le fiabe per certi versi poi il fatto che molti miti siano simili può dipendere anche semplicemente dal fatto che dal fatto che i popoli spesso sono entrati in contatto fra di loro quindi se è vero che ci sono parallelismi anche fra popoli che non sono stati in contatto e lì possiamo parlare di ci sono parallelismi tra popoli che non sono stati in contatto e lì possiamo parlare di inconscio collettivo però è anche vero che ci sono stati popoli che sono stati in contatto fra di loro e quindi magari si sono influenzati vicendevolmente rispetto a questi miti e così potremmo magari giustificare l'idea ecco il tema che si ripete del bambino eroe fondatore di qualcosa o guida di un popolo che viene alla nascita messo in una cesta su un fiume e viene ritrovato tra l'altro con un valore simbolico perché l'acqua indica rinascita indica purezza purificazione ma anche intervento divino insomma tutta una serie di tutta una serie di cose poi non so mi viene per esempio un'altra scusando il gioco di parole un altro esempio ecco a proposito del racconto di Ulisse cioè dell'Odissea che cosa racconta l'Odissea racconta del viaggio di un eroe appunto Ulisse il quale per ritornare dal luogo dove aveva combattuto e che si chiama Troia deve oppure Ilio da cui Iliede deve ma noi stiamo parlando dell'Odissea deve ritornare al suo paese nell'isola di Itaca che è un'isola greca e che oggi si chiama Zante bene e attraversa tutto il Mediterraneo finisce presso località vicine allo stretto di Gibilterra quindi nella penisola iberica finisce in Campania finisce in Sicilia e finisce insomma in vari luoghi e alla fine arriva finalmente a Itaca ebbene ci sono alcuni studiosi che pensano che in realtà il racconto dell'Odissea non sia un racconto che abbia avuto la sua genesi cioè la sua nascita proprio nel Mediterraneo ma che invece la abbia avuta nel mar baltico per la cronaca il mar baltico ve lo faccio vedere in un nell'Atlante il mar baltico è il mare che praticamente bagna la Scandinavia meridionale e alcune zone dell'Europa se io trovassi l'Europa qua non la trovo e allora ve lo faccio vedere in questo modo allora guardate questa cartina spero che la vediate bene dunque il Mediterraneo è questo va bene il Mediterraneo è questo qui manca l'Africa perché l'immagine è più piccola mentre il mar baltico è questo va bene ora voi dovete sapere ragazzi che la Scandinavia era la terra dei vichinghi quindi dei normanni dei vareghi cioè di popolazioni assolutamente abituate assolutamente abituate alla navigazione ok bene secondo lo sarà cioè successivamente almeno dei vichinghi vi ho detto una cosa un po' decisamente anacronistica però certamente lì stavano popolazioni appunto che dovevano di necessità navigare al di là dei vichinghi o non vichinghi vi ho detto una cosa anacronistica che in realtà viene dopo però ecco ci stavano lì popolazioni che per forza di cose dovevano navigare allora secondo alcuni studiosi in realtà il racconto del viaggio di Ulisse avrebbe origine in racconti che risalgono addirittura alle popolazioni che vivevano nella zona intorno al Mal Baltico il quale ha delle caratteristiche simili al Mar Mediterraneo rispetto alla sua forma e al fatto che come nel Mediterraneo c'è lo stretto di Gibraltar così nel Mar Baltico si passa dalla Danimarca la Jutland nella Danimarca da attraverso uno stretto anche lì e questo mito di questo viaggio straordinario sarebbe arrivato attraverso peregrinazioni cioè emigrazioni spostamenti di popoli che dal nord dell'Europa sarebbero scesi verso la penisola ellenica per dire va bene questo potrebbe perché no potrebbe essere anche un'origine non è come dire non è definitivamente comprovata tuttavia ai suoi sostenitori e poi un altro modo un altro motivo per cui questi miti possono avere dei tratti comuni è quello della memoria di un fatto storico comune a proposito di Gilgamesh abbiamo parlato che lì si parla abbiamo detto che lì si parla del diluvio universale che troviamo anche nella genesi il racconto dell'arca di Noè ma che in realtà si trova in tanti racconti dell'antichità in tanti miti dell'antichità allora molto probabilmente questo benedetto diluvio fu una grossissima esondazione dei fiumi Tigri e Deofrate in Mesopotamia che dovette portare veramente tanti disastri e tanti danni al punto tale da rimanere nella memoria delle varie popolazioni e di essersi tradotto poi in una rappresentazione mitica da parte di tutte queste civiltà ci siamo detto ciò allora che cos'è quindi ragazzi un mito bene la parola mito viene dal greco mutos e significa racconto però che cos'è anche il mito il mito è un racconto che viene creato in in tempi in epoche pre-scientifiche precedenti a una moderna concezione e della filosofia e della scienza quindi il mito è un racconto che viene creato viene formulato in epoche antiche pre-scientifiche pre-scientifiche per dare conto cioè per dare giustificazione spiegazione se non scientifica che non può essere quanto meno religiosa e quindi di senso di vita alle popolazioni antiche e appunto le grandi domande che cosa ci sta a fare l'essere umano sulla terra da dove viene perché vive dove andrà perché muore nell'esperienza della sua vita perché conosce il dolore e la sofferenza perché come mai l'uomo può essere comunque l'essere umano può essere capace di grandi gesta di grandi azioni e di azioni stupende tali da conferirgli una dignità elevatissima quasi da renderlo divino in certe situazioni e chi ha creato tutto e perché l'uomo esiste all'interno di una creazione forse voluta da entità divina che cos'è il sole perché c'è l'alternanza della luna e del sole e perché ci sono le stagioni e da dove viene la pioggia e da dove vengono i fulmini e così via bene allora ecco che il mito che ha un fortissimo valore culturale perché è in grado di dare forti spiegazioni di carattere religioso e morale ecco che il mito quindi ha un carattere sacrale ha un carattere sacro di necessità rispondendo a domande come da dove veniamo dove andiamo perché ci siamo che rapporto abbiamo con la divinità se esiste la divinità che tipo di divinità siano le divinità e così via bene ecco che allora il mito è un racconto sacro in quanto sacro prestigioso e degno di grande rispetto da un lato dall'altro lato però il mito spesso viene prodotto da popolazioni che almeno per buona parte della loro storia magari non conoscevano la scrittura e allora il mito doveva essere tramandato oralmente pertanto doveva essere concepito il racconto mitico che era sacro anche in un modo tale da poter essere facilmente ricordato quindi con degli espedienti per esempio quello del ripetere certe gesta del ripetere certe modalità ma anche dell'essere narrati in poesia perché ragazzi non vi dimenticate io questa cosa ve l'ho già detta ve l'ho già spiegata non nasce prima la prosa cioè la scrittura così come la conoscevo ma nasce prima la scrittura in versi così va bene perché questo perché è più facile ricordare un brano in versi piuttosto anche molto lungo piuttosto che un brano in prosa perché noi impariamo facilmente le canzoni perché a volte rispettano la metrica perché hanno le rime perché hanno le strofe sono più facili da ricordare quindi i miti vengono originariamente narrati in forma orale e quando è noi che li troviamo scritti li troviamo scritti quando le civiltà intanto apprendono scoprono la scrittura imparano ad utilizzarla e allora a un certo punto la scrittura anziché essere usata solo per tenere i conti dei magazzini e dei commerci viene utilizzata anche per la produzione religiosa e culturale e allora cominciano a essere messi per iscritti ma nel momento stesso in cui un mito viene messo per iscritto si cristallizza diventa quello quando un racconto è orale lo possiamo modificare è come quando noi raccontiamo delle barzellette a seconda di chi la racconta quella barzelletta si modifica si cambia d'accordo si modifica si cambia ognuno la racconta aggiungendoci magari un particolare o cambiando qualche cosa per i miti succede lo stesso fin tanto che i miti come per le fiabe perché abbiamo 400 versioni di cenerentola non solo perché sono state formulate fiabe simili dappertutto nel mondo ma anche perché alcune in realtà a seconda di dove venivano narrate per esempio in Europa cioè se una fiaba come cenerentola la troviamo in Europa la troviamo in Australia non ci può essere contatto perché non c'erano contatti ma se la troviamo in Spagna e in Francia e in Italia diversa probabilmente questi popoli sono in contatto fra di loro è perché ognuno li ha declinati li ha modificati secondo la propria cultura secondo la propria sensibilità per il mito accade la medesima cosa ok per il mito accade la medesima cosa e quindi succede che ecco a seconda delle zone geografiche ci possono essere tradizioni diverse cioè trasmissioni di quei miti con differenze anche sostanziali nel momento in cui vengono messe per iscritto invece i miti si bloccano cioè sono quelli come sono stati iscritti e basta un mito può essere interpretato in tanti modi ma noi l'abbiamo visto con Adamedeva lo abbiamo visto con Cain e Abele per esempio Adamedeva questo discorso di Eva cioè Isha che viene tratta dal corpo dell'uomo che viene addormentato e che mentre addormentato Dio gli toglie la costola e da quella costola fa la donna per secoli anzi per millenni questo racconto è stato sfruttato per giustificare la subalternità della donna all'uomo cioè il fatto che la donna storicamente ha dovuto obbedire all'uomo in tutti i suoi desiderata in tutti i suoi desideri e lo si giustificava in questo modo ma abbiamo visto anche come una lettura più corretta ci fa capire che invece Adamo è Isha Eva è Isha e se proprio dobbiamo dirla tutta Adam è l'essere che viene tratto dalla terra Eva è Agua cioè il principio vitale quindi se proprio dobbiamo dirla tutta il principio vitale forse è qualche cosa in più in una come dire in una in un racconto simbolico di gerarchia simbolica di maggiore o minore importanza rispetto all'essere tratto dalla terra perché il principio vitale è quello che da vita la donna partorisce ma il termine che indica l'essere umano maschio nell'ebraico antico Isha il termine che indica l'essere umano femmine Isha è come dire uomo e uoma oppure donno e donna ci siamo quindi non c'è alcuna differenza e anzi nel racconto biblico si dice che Eva è Isha cioè è l'aiuto che sta di fronte all'uomo che corrisponde all'uomo quindi altro che subalternità della donna all'uomo bensì parità di dignità pur nella diversità di sesso di genere nella diversità di mansioni che magari si possono svolgere anche per la semplice conformazione fisica e dell'uomo e della donna ma ecco rispetto alla dignità dell'essere umano identica e ok quindi che cosa succede succede oppure Cain e Abele uno rappresenta l'agricoltura uno rappresenta la pastorizia anche qui in realtà laddove le forme di agricoltura sono scusatemi le forme di economia sono molto arretrate diciamo primitive non è bello dire arretrate diciamo primitive ecco che troviamo sempre molto spesso una competizione fra chi pratica l'agricoltura e chi pratica la pastorizia se non altro perché chi pratica la pastorizia ha bisogno di campi dove fare pascolare i propri animali e spesso gli agricoltori pongono ostacoli a che gli animali passino sui loro campi perché gli rovinano la gli rovinano la cultura ecco dunque che in realtà nel racconto di Cain e Abele ci sono c'è una polisemia vale a dire una molteplicità di significati questo fa sì che anche se ormai la nostra società è fortemente scientifica cioè fortemente improntato un metodo scientifico basato sui dati di fatti eccetera però i miti che rispondevano all'esigenza delle culturali di popoli antichi primitivi e prescientifici però ecco che i miti continuano a parlare anche all'uomo di oggi alla donna di oggi all'essere umano di oggi perché affrontano tematiche profonde che afferiscono che hanno a che fare con le nostre strutture mentali i bisogni dell'essere umano e le grandi domande che rendono l'essere umano inquieto per esempio il senso della propria esistenza nell'ultimo quarto d'ora che vi rimane vi studiate vi leggete in classe in aula col quaderno vicino pagina 4 dove c'è scritto il mito pagina 5 dove c'è scritto i parallelismi tra miti di civiltà diverse sono tutte cose che vi ho spiegato in questi minuti girate pagina e non c'è bisogno che fate l'epica cioè quindi vi fermate qua va bene vi fermate qua quindi fate pagina 4 il mito pagina 5 i parallelismi tra miti di civiltà diverse e vi fermate qua sopra va bene vi fermate qua l'epica tutto il resto no dovete leggere e quando se non finite lo finite a casa e poi ve lo correggo e vi metto il voto pure se dovessimo andare in dad non me ne frega niente definitivamente pure se dovessimo andare in dad definitivamente fate in classe il lavoro che avete fatto con questo libro qua il B a pagina 199 numero 3 cioè ve lo leggete bene sottolineate le parti più importanti vi in un foglio segnate le cose che vi interessano con tutti i simboli che vi possono interessare e dopo di che costruite una mappa concettuale di questi di queste due paginette che vi ho lasciato va bene ragazzi ci vediamo al più presto saluto il professor Cortese lo ringrazio sempre per la sua disponibilità mi raccomando comportatevi bene e non fatemi fare brutta figura col professor Cortese grazie e ciao a tutti